Come funziona una giunzione PN e soprattutto che cos'è? In questo video cerchiamo di spiegare questi concetti partendo dal silicio, vedendo cosa vuol dire drogarlo e cosa succede quando mettiamo due parti di silicio drogato vicino tra di loro. Queste sono le basi del funzionamento del diodo e ci saranno molto utili in seguito. Iniziamo subito. Parliamo di semiconduttori. Un semiconduttore è un materiale che ne conduce, ne isola. Il semiconduttore principe oggi, attualmente quello che ho utilizzato, è il silicio. Immaginiamo che sia un cubetto. Questo cubetto di silicio è composto da tutta una serie di atomi che formano un reticolo. Questo reticolo è molto ben incastrato in modo che gli elettroni non possono andare in giro liberi e quindi qui dentro avremo, in questo reticolo formato dagli atomi di silicio che si regano tra di loro con dei legami chimici, avremo un certo numero di elettroni e lacune. Cosa vuol dire elettrone e lacune? Allora, elettroni li schegno così e le lacune in questo modo, con una L. All'interno di questo reticolo possiamo avere elettroni o lacune. Gli elettroni sono proprio fisicamente gli elettroni dell'atomo. Una lacuna è la mancanza di un elettrone. Cioè, l'elettrone è una particella che ha una carica negativa. Non esistono delle particelle con carica positiva. Se questo elettrone viene in qualche modo catturato o scappa da quest'atomo, a quest'atomo manca un elettrone e quindi si dice che abbiamo una lacuna. Quindi il fatto che manchi l'elettrone fa in modo che l'atomo sia un pochino più positivo e questa mancanza è la lacuna. All'interno del silicio, per via della temperatura ambientale, si hanno degli elettroni che vengono magari liberati. Il fatto che si liberano e per un po' circolano nel reticolo fino poi a ricombinarsi, producono un certo numero di elettroni e lacune. Cosa vuol dire ricombinarsi? L'elettrone si stacca, vaga per un po', da quest'altra parte abbiamo un altro atomo di silicio che aveva perso il suo elettrone, quindi trova un posto qui e si inserisce, si ricombina in questo modo con la lacuna. Questo è il nostro cubetto di silicio. Il cubetto di silicio può essere modificato in due modi, aggiungendo degli atomi nel reticolo. Quindi abbiamo due possibilità che metto qui. Uno è il semiconduttore di tipo P e quell'altro di tipo N. Vuol dire che li abbiamo modificati con quello che viene detto il drogaggio o doping. Il reticolo degli atomi di silicio è bello preciso, quindi si può disegnare una roba del genere. Ogni atomo si lega con quattro adiacenti e si viene a creare un bel reticolo in questo modo, bello regolare. Ovviamente va poi fatto in 3D, ok? Quindi questo è solo indicativo. Qui è tutto a posto. Se io qui dentro vado a mettere un atomo che ha meno elettroni o ne ha uno in più, vado a creare un semiconduttore. Nel caso abbia più elettroni sarà più negativo, quindi abbiamo un drogaggio di tipo N. Se andiamo a mettere un atomo che ha un elettrone in più, mettiamo un po', li diffondiamo con un processo chimico all'interno del nostro pezzo, della nostra fetta di silicio, il semiconduttore sarà drogato di tipo N, quindi avrà un eccesso di elettroni, più elettroni rispetto alle lacune che potremmo avere. Invece, in caso contrario, se nel nostro reticolo andiamo a mettere un atomo che ha meno elettroni di sua natura, avrà meno elettroni e quindi avremo una lacuna. In questi due tipi di materiali, nel semiconduttore drogato N, avremo un eccesso di elettroni, che vengono dette cariche maggioritarie, e poche lacune, che vengono dette minoritarie. In quello di tipo Bcp, avremo un eccesso di lacune, che sono detti i portatori maggioritari, e invece avremo pochi elettroni, che sono dette le cariche minoritarie. Queste qui, che sono le minoritarie, sono dovute appunto allo stato termico del materiale alle combinazioni e ricombinazioni che avvengono naturalmente, quindi si avrà un certo numero di lacune di elettroni. Cosa succede quando andiamo a mettere vicino due di questi pezzettini? Combinando insieme due pezzettini di semiconduttore, in effetti, io dico, si combinano insieme che sembrano due cubetti di Lego che mettiamo uno accanto all'altro, in realtà non è proprio così. Quindi, il processo di costruzione prevede che questi due materiali vengano diffusi uno sull'altro, quindi si parte da un silicio, si va ad aggiungere chimicamente il drogaggio. Qui vado a disegnare anche dei terminali metallici, che sono quelli di questo dispositivo che abbiamo creato. Questo qui avrà a destra la parte drogata N e a sinistra la parte drogata P. Vorrei dire che qui avremo più lacune e qui più elettroni. Questo oggetto che abbiamo realizzato è un diodo, quindi questo qui sarà il catodo, questo l'anodo, il simbolo del diodo è questo qui. Quindi, come se fosse fatto così. Applicando una tensione tra anodo e catodo, cosa succede? Mettiamo il catodo collegato verso la tensione negativa 0, che è 0 volt o ground. Invece l'anodo lo colleghiamo alla tensione positiva, maggiore di, per esempio, 0,5-0,6. Tensione positiva rispetto al catodo. Cosa succede? Qui in mezzo, normalmente, si crea una specie di separazione, è la giunzione. Questa giunzione, applicando una tensione, come l'abbiamo fatta noi, quindi col positivo sul P, negativo su N, crea un campo elettrico. Questo campo elettrico modifica lo stato delle cariche. Una carica nel campo elettrico viene spostata. La freccia C dà un'indicazione di quello che succede. Allora, le cariche negative, quindi gli elettroni che abbiamo qui, vengono spinti da questa parte, dal campo elettrico, quindi li prende e li butta di là. Le lacune, invece, vanno dalla parte opposta. Le lacune andranno da questa parte e quindi c'è questo scambio. Appena attraversa la lacuna, ma qui è in buona compagnia. Nel P abbiamo visto che ci sono tante lacune e pochi elettroni. Nella N, invece, abbiamo tantissimi elettroni e pochi lacune. Cosa succede? La lacuna appena attraversa, sicuramente si scontra con un elettrone e si vanno ad annullare. Ok, si ricombinano. Lo stesso per l'elettrone. Comunque c'è un movimento. Questa nuvola di moscerini tende ad andare di qui, questa tende ad andare di là. Appena attraversa questa parte si ricombinano. Però questo movimento, diciamo, apparente fa sì che qualcuno debba fornire questi elettroni e queste lacune. Quindi avremo una corrente che scorre e la vediamo anche esternamente. Questa corrente è notevole. è di notevole intensità ed è la I diretta. Cosa succede se facciamo il contrario? Al contrario abbiamo sempre qui la nostra combinazione di P e N. Se applichiamo questa volta una tensione più bassa sull'anodo e più alta sul catodo, questo lo colleghiamo, per esempio, a V+, cosa succede? Il campo elettrico sarà al contrario e questa volta tende a schiacciare. Quindi le lacune si troveranno tutte schiacciate qua, sul bordo. Gli elettroni, anche loro, si allontanano dalla parte centrale. La parte centrale si va ad allargare. Quindi si crea, quello che viene detto, il depletion layer, lo strato di svuotamento che impedisce la circolazione. Nei due semiconduttori abbiamo visto cariche maggioritarie e minoritarie. Nel N abbiamo tanti elettroni e poche lacune. E dall'altra parte il contrario. Quindi qua avremo qualche piccola lacuna che riesce comunque a attraversare perché è nella condizione opposta. Quindi mentre gli elettroni sono bloccati, se c'è qualche piccola lacuna riesce a attraversare lo stesso per gli elettroni. Da questa parte, questo da origine è una piccola corrente, molto piccola, all'ordine di nanoampere, che abbiamo quando polarizziamo inversamente la nostra giunzione. Teniamo presente queste dinamiche perché ci permettono poi di capire meglio come funziona il transistor. Se il video ti è piaciuto metti un like e se non sei iscritto iscriviti così mi dai una mano a crescere. Spero che il video sia stato interessante perché ci servirà a breve, in uno dei prossimi video, per capire meglio il funzionamento del transistor bipolare. Per oggi è tutto, ti saluto e ti ringrazio. Ci vediamo presto. Ciao!